Io ho avuto modo di essere già stato a Bratislava per la semestrale della nostra riunione di affari esteri di sicurezza comune e lì è emerso molto chiaramente che in questo momento l'unica cosa in cui tutti sono d'accordo è di non essere d'accordo. C'è una spaccatura fortissima nell'asso nord-sud, quindi mediterraneo, nord-Europa, ma anche est-ovest, anche sul tema per esempio della difesa unica, i paesi dell'est-Europa concepiscono questo strumento come una ulteriore rassicurazione e in qualche modo anche deterrenza nei confronti della Russia, un po' per alzare ulteriormente le tensioni. I paesi della vecchia Europa, se vogliamo, in cui Francia, Germania, Italia si fanno capofila, lo invece perseguono per tutt'altra finalità. Allora la domanda che ci vogliamo chiedere è, si riuscirà a trovare una sintesi? Non mi sembra in questo momento che ci sia né sul piano della cooperazione di difesa e avanziamo anche dubbi abbastanza forti su questa commissione, missioni civili, missioni militari, quale sarà effettivamente la catena di comando e come si potrà conciliare questo apparato con la Nato, ma mi sembra che anche sui temi economici le distanze siano ancora abbastanza notevoli e in qualche modo queste contraddizioni sono emerse notevolmente anche nel dibattito di oggi. Molte grazie anche per la riforma della Costituzione. Qualcuno come il Presidente Emerito della Corte Costituzionale, Zagrebelsky, l'ha letta bene e ha detto se passo una riforma del genere io smetterò di insegnare, quindi evidentemente chi è estremamente competente in materia non è dello stesso avviso di questo governo. Aggiungo un altro tema importante, oggi il Presidente Mattarella dice che con serenità attenderemo il voto benissimo, bene che si sia difesa la sovranità popolare perché dalle parole dell'Ambasciatore Phillips sembrava quasi che fossimo un Paese a sovranità limitata e francamente l'ho trovata molto irrispettosa nei nostri confronti. Speriamo che con la stessa serenità il Governo finalmente ci dica quando andremo al voto perché vediamo un rinvio dopo l'altro, sembra quasi che il posto di dicembre 2016 si voglia votare a dicembre 2018 magari per questo esecutivo. Molte grazie a Fabio Assio Castaldo, portorio parlamentare del Movimento 5 Stelle, al Presidente dei Deputati del Partito.